Scusate, rivedendo il video precedente mi sono accorto di aver fatto un errore, cioè quando vi parlavo di questa equazione qui, fatemi prendere la penna, di questa equazione qui, che vi dicevo che insomma questa retta passa per il punto 0 più 7 qui, beh, chiaramente essendo il k positivo non passa per il secondo e quarto quadrante, ma passa per il primo e secondo quadrante, non passa per l'origine, quindi probabilmente è piazzata così, eccoci, l'inclinazione poi dipenderà dal k, siccome il k qui è minore di 1, sicuramente, voglio dire, sarà un'inclinazione inferiore a 45 gradi, poi bisognerà trovare i punti, insomma, riempire la nostra tabellina relativamente a questa equazione per poter poi trovare come è esattamente piazzata questa retta. Poi più avanti vedremo altre metodologie per tracciare una retta, che è molto più immediata e che rispondono anche a dei quesiti che probabilmente ritroverete nel compito d'esame finale. Ciao! Ciao!